31. I contorni di piccole case squadrate a un piano e case di mattoni iniziarono ad apparire nell'oscurità scarlatta che si stava infittendo. Una cittadina, si rese conto Josh. Grazie a Dio. Il vento lo stava ancora sferzando con forza sulla schiena, ma dopo quelle che erano sembrate otto ore di cammino il giorno prima, e almeno cinque quel giorno, era sul punto di crollare a terra. Portava tra le braccia la bambina esausta, come aveva fatto nelle due ore precedenti, e camminò con le gambe rigide e con le piante dei piedi che trasudavano liquido delle vesciche e sangue nelle scarpe che si stavano aprendo alle cuciture. Pensava che doveva assomigliare a uno zombie o al mostro di Frankenstein, che portava in braccio l'eroina svenuta. Avevano passato la notte precedente al riparo dal vento dietro un picap ribaltato. Nei dintorni erano state disseminate balle di fieno legate, e Josh le aveva avvicinate per costruire un riparo di fortuna che avrebbe trattenuto il loro calore corporeo. Comunque, erano stati nel mezzo del nulla, circondati dalla desolazione e da campi morti. Ed entrambi avevano temuto le prime luci, perché sapevano che avrebbero dovuto ricominciare a camminare. La città buia, non più di una spruzzata di edifici devastati dal vento e alcune case, molto distanziate su appezzamenti polverosi, lo incitò ad avanzare. Non vide auto e nessun segno di luce o vita. C'era una stazione di servizio texaco con una pompa e un garage il cui tetto era crollato. Un'insegna che ondeggiava avanti e indietro sui suoi cardini diceva ferramenta e alimentari Tucker. Ma la vetrina del negozio era frantumata, e quel posto sembrava vuoto come l'armadietto di mamma Hubbard. Anche un piccolo bar era crollato, tranne per l'insegna che diceva prelibatezze. Ogni passo era un'agonia, e Josh superò gli edifici sgretolati. Vide una dozzina di libri tascabili nella polvere intorno a lui, con le pagine che si voltavano selvaggiamente nella mano instancabile del vento. E sulla sinistra c'erano i resti di una piccola struttura in legno con un'insegna dipinta a mano che diceva Biblioteca pubblica di Sullivan. Sullivan, pensò Josh. Qualunque cosa Sullivan fosse stata un tempo, adesso era morta. Qualcosa si mosse al limite del suo campo visivo. Guardò di lato, e qualcosa di piccolo, pensò che fosse una lepre, sfrecciò via dietro le rovine del bar. Josh era irrigidito per il freddo, e sapeva che anche Swan doveva essere congelata. La bambina stringeva la bambola del cookie monster, come se fosse la vita stessa, e di tanto in tanto trassaliva nel suo sonno tormentato. Si avvicinò a una delle case, ma si fermò quando vide un corpo contorto come un punto interrogativo sui gradini del portico. Si diresse alla casa successiva, più avanti e dall'altro lato della strada. La cassetta delle lettere, sorretta da un piedistallo piegato, era dipinta di bianco, e in nero c'era disegnato sopra quello che sembrava un occhio, con ciglia sopra e sotto. Il nome scritto a mano era Davy e Liona Skelton. Josh attraversò l'appezzamento polveroso e salì i gradini del portico fino alla porta a zanzariera. «Suon!» disse. «Svegliati ora». Lei mormorò qualcosa e lui la fece scendere a terra. Poi tentò di aprire la porta, ma si accorse che era chiusa a chiave dall'interno. Sollevò il piede e diede un calcio al centro della porta, scardinandola. E poi attraversarono il portico, dirigendosi verso l'ingresso. Josh aveva appena appoggiato la mano sulla maniglia quando la porta si aprì di scatto e la canna di una pistola lo fissò negli occhi. «Hai rotto la mia porta», disse una donna nel buio. La pistola non tremava. «Mi dispiace, signora. Non credevo che ci fosse qualcuno in casa». «E perché pensi che la porta fosse chiusa a chiave allora? Questa è una proprietà privata». «Mi dispiace», ripete Josh. Vide il dito ossuto della donna sul grilletto. «Non ho denaro», disse. «Le ripagherei la porta, se potessi». «Denaro!» esclamò lei e sputò accanto a lui. «Il denaro non vale più niente. Diamine, una porta come quella vale quanto un sacco d'oro, amico. Ti farei saltare quel dannato cervello se non dovesse ripulire tutto il casino, poi». «Se non le dispiace, noi ce ne andiamo». La donna restò in silenzio. Josh riusciva a vedere il contorno della sua testa, ma non il suo volto. La testa della donna si voltò verso Swan. «Una bambina», disse Piano. «Oh, signore, una bambina». «Leona!» chiamò una voce debole da dentro la casa. «Leona!» e poi fu interrotta da un attacco soffocante e terribile di tosse. «Va tutto bene, Davy!» gridò la donna. «Arrivo subito!» rivolse di nuovo la sua attenzione a Josh, con la pistola ancora puntata sulla sua faccia. «Da dove arrivate voi due? E dove state andando?» «Veniamo da... là fuori», indicò la fine della cittadina. «E immagino che andiamo di là», indicò l'altra estremità della cittadina. «Non è un granché come itinerario di viaggio». «Credo di no», concordò lui, guardando a disagio l'occhio nero di quella pistola. Lei fece una pausa, guardò di nuovo la bambina e poi fece un sospiro profondo. «Beh», disse alla fine, «dato che vi siete già introdotti a metà, potete benissimo fare anche il resto della strada». Fece loro un cenno con la pistola e arretrò nell'ingresso. Josh prese la mano di Swan ed entrarono in casa. «Chiudi la porta», disse la donna. «Grazie a te presto saremo nella polvere fino al collo». L'uomo fece come lei aveva chiesto. Nel camino bruciava un piccolo fuoco e la tozza figura della donna era circondata da un alone rosso mentre si muoveva nella stanza. Accese una lanterna antivento sulla mensola del camino, poi una seconda e una terza, posizionate strategicamente nella stanza per dare più luce possibile. La pistola non era più armata, ma la tenne al fianco. Finì con le lanterne e si voltò per dare un'occhiata migliore a Josh e Swan. L'iona Skelton era bassa e grossa. Indossava uno spesso maglione rosa sopra un grembiule malmesso e ai piedi aveva delle pelose ciabatte rosa. Il suo volto squadrato sembrava essere stato tagliato come una mela e poi lasciato seccare al sole. Non c'era un singolo punto liscio su di esso, a causa di tutte le rughe e le crepe che vi si intrecciavano. I suoi grandi ed espressivi occhi azzurri erano circondati da reti di rughe e le linee profonde sulla sua fronte ampia sembravano una rappresentazione in argilla delle onde dell'oceano, josh pensò che doveva avere più di 65 anni, anche se i suoi capelli ricci pettinati all'indietro erano tinti di un rosso sgargiante. In quel momento, mentre il suo sguardo si spostava da Josh a Swan, le sue labbra si aprirono lentamente e lui vide che diversi dei suoi denti frontali erano d'argento. «Dio Santissimo!» disse piano la donna. «Voi siete ustionati, vero? Oh Gesù, mi dispiace, non voglio fissarvi, ma...» Guardò Swan e il suo volto sembrò contrarsi per il dolore. Si vedeva lo scintillio di lacrime nei suoi occhi. «Oh Signore!» sussurrò Liona. «Oh mio signore! Siete stati feriti così tanto!» «Siamo vivi!» disse Josh. «Questo è quello che conta!» «Sì!» concordò lei e annui. I suoi occhi si abbassarono sul pavimento di legno. «Perdonate la mia maleducazione, sono stata cresciuta meglio di così!» «Liona!» chiamò l'uomo con voce stridula e fu di nuovo colto da un attacco di tosse. «È meglio che vada a occuparmi di mio marito!» disse, lasciando la stanza attraverso un corridoio. Mentre lei non c'era, Josh si guardò intorno nella stanza. Era arredata spartanamente, con mobili di pino non verniciati e uno sfilacciato tappetino verde davanti al camino. Evitò di guardare nello specchio che c'era su una parete e si diresse a una vetrina vicina. Sui ripiani della vetrina c'erano dozzine di sfere di cristallo di varie dimensioni, le più piccole e grandi quasi quanto delle biglie, e le più grandi delle dimensioni dei pugni di Josh messi insieme, circa la metà della grandezza di una palla da bowling. La maggior parte di esse aveva la dimensione di palle da baseball ed erano perfettamente trasparenti, anche se altre erano di sfumature di blu, verde e giallo. In aggiunta a quella collezione c'erano diversi tipi di piume, delle pannocchie secche con chicchi di molti colori, e un paio di pelli di serpente dall'aspetto fragile e quasi trasparenti. «Dove siamo?» gli chiese Swan, stringendo ancora il suo cookie monster. Sotto i suoi occhi c'erano cavità viola scuro dovute alla fatica, e la sete le faceva bruciare la gola. «In una cittadina chiamata Sullivan. Non c'è molto qui. Sembra che tutti se ne siano andati, tranne queste persone.» Si avvicinò alla mensola sul camino per guardare alcune delle polaroidi incorniciate e appoggiate sopra. In una delle foto, l'Iona Schelton sedeva su un divano a dondolo con un uomo di mezza età, sorridente e robusto, che aveva più pancia che capelli, ma i suoi occhi erano giovani e un po' maliziosi, dietro a degli occhiali con la montatura sottile. Aveva una mano intorno a l'Iona e l'altra mano sembrava muoversi verso il suo grembo. Lei stava ridendo, con la bocca piena di un bagliore argentato, e i suoi capelli non erano così rossi. In ogni caso, sembrava avere almeno 15 anni in meno. In un'altra fotografia, l'Iona stava cullando un gatto bianco tra le braccia, come un neonato, e la zampa del gatto si sollevava in aria con soddisfazione. Una terza fotografia mostrava l'uomo con la pancia grossa con un tipo più giovane, entrambi con canne da pesca mentre mostravano dei piccoli pesci. «Quella è la mia famiglia», disse Liona entrando nella stanza. Aveva lasciato indietro la pistola. «Il nome di mio marito è Devi. Nostro figlio si chiama Joe e il gatto si chiama Cleopatra. Si chiamava Cleopatra, voglio dire. L'ho sepolta circa due settimane fa sul retro. L'ho sepolta in profondità, così nulla può raggiungerla. Voi due avete dei nomi o siete usciti da un uovo?» «Io sono Josh Hutchins. Lei è Sue Wanda, ma la chiamano Swan». «Swan», ripetè Liona. «È un bel nome. Piacere riconoscervi». «Grazie», disse Swan, non dimenticando le buone maniere. «Oh, signore!» Liona si chinò e raccolse alcune riviste d'agricoltura e di House Beautiful che erano cadute dal tavolino, poi prese una scopa dall'angolo e iniziò a spazzare la polvere verso il camino. «La casa è un terribile disastro», si scusò mentre lavorava. «Ero solita tenerla pulita come uno specchio, ma di recente il tempo sfugge. Non ho avuto visitatori per un gran numero di giorni». Spazzò il resto della polvere e si fermò a fissare fuori da una finestra, guardando il buio rossastro e i resti di saliva imbattuti dal vento. «Era una bella cittadina», disse senza energia. «Più di 300 persone vivevano da queste parti e anche persone per bene. Ben McCormick diceva che era abbastanza grasso da contare per altre tre persone. Drew e Sissy Stimmons vivevano in quella casa laggiù», indicò un punto. «Oh, Sissy amava i suoi cappelli. Ne aveva trenta e ne indossava uno diverso ogni domenica per trenta settimane e poi ricominciava. Kyle Doss aveva il bar. Geneva Duber rigestiva la biblioteca pubblica e... oh, Signore, se poteva parlare di libri!» La sua voce si stava abbassando sempre di più, svanendo lentamente. Geneva diceva che un giorno si sarebbe seduta e avrebbe scritto un suo romanzo. «Ho sempre creduto che l'avrebbe fatto», indicò in un'altra direzione. «Laggiù, alla fine della strada, viveva Norm Barclay, ma non si vede la casa da qui. Ho quasi sposato Norman quando ero una giovincella, ma Devi mi ha portata via con una rosa e un bacio un sabato sera. Sì, Signore!» Annui e poi sembrò ricordare dove si trovava. La sua schiena si raddrizzò e ripose la scopa nell'angolo come se stesse lasciando un compagno di ballo. «Beh, questa era la nostra cittadina», disse. «Dove sono andati tutti gli altri?» chiese Josh. «In paradiso», rispose lei. «O all'inferno, dipende da quale li ha reclamati per primo, suppongo. O alcuni di loro hanno fatto i bagagli e se ne sono andati». Si strinse nelle spalle. «Verso dove? Non so dirlo, ma la maggior parte di noi è rimasta qui, nelle nostre case e sulla nostra terra. Poi la malattia ha iniziato a colpire la gente e la morte è venuta tra di noi. È come un grosso pugno che bussa alla tua porta, boom, 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 una cosa del genere. E sai che non puoi impedirle di entrare, ma devi provarci». Si inumidi le labbra con la lingua, con gli occhi vitrei e distanti. «Di sicuro è un tempo folle per essere a gusto, vero? È abbastanza freddo per farti cadere il naso». «Sa cos'è successo, vero?» Lei annui. «Oh, sì», disse. «Lì Procter aveva la radio al massimo volume, quando ero lì per comprare dei chiodi e del filo per appendere un quadro. Non so su quale stazione fosse sintonizzato, ma tutto ad un tratto c'è stato un orribile gridare e la voce di quell'uomo usciva dalla radio parlando velocissimo di uno stato d'emergenza e di bombe e di tutto il resto. Poi si è sentito un suono come quello del grasso in una padella calda e la radio è rimasta muta. Non si sentiva più nemmeno un sussurro. Wilma James è entrata di corsa gridando a tutti di guardare in cielo. Siamo usciti e abbiamo guardato e abbiamo visto quegli aerei o le bombe o qualsiasi cosa fossero passare in cielo e alcuni erano quasi sul punto di scontrarsi l'uno con l'altro e Grange stacere ha detto sta succedendo sta succedendo l'apocalisse e poi si è sdraiato sul marciapiede davanti al suo negozio per vedere quelle cose superarci volando. Poi è arrivato il vento e la polvere e il freddo, disse continuando a fissare fuori dalla finestra. Il sole è diventato rosso sangue. Sono passati dei tornado e uno ha colpito la fattoria dei McCormick che l'ha semplicemente portata via. Non ha lasciato niente a parte le fondamenta. Nessuna traccia di Ben, Ginny o dei bambini. Naturalmente tutti in città hanno iniziato a venire da me volendo sapere cosa riservava il futuro e tutto il resto. Si strinse nelle spalle. Non potevo dire loro che vedevo dei teschi al posto delle loro facce. Come puoi dire una cosa del genere a degli amici? Beh, il signor Laney, il postino della contea di Russell, non si è fatto vedere. Le linee telefoniche erano morte e non c'era elettricità. Kyle Doss e Eddie Meacham si sono offerti volontari per fare i 30 chilometri fino a Mattison per scoprire cosa stava succedendo. Non sono mai tornati. Ho visto dei teschi anche al posto dei loro volti, ma cosa potevo dire? Sapete, a volte non ha alcun senso dire a qualcuno che il suo tempo sta per finire. Josh non stava seguendo il discorso della vecchia. Che cosa intende quando dice che vedeva dei teschi al posto dei loro volti? Oh, mi dispiace. Dimentico che fuori da saliva non tutti sanno di me. Liona Schelton si allontanò dalla finestra con un leggero sorriso sul suo volto da mela secca. Prese una delle lampade, attraversò la stanza fino a una libreria e ne tirò fuori un album di ritagli rivestito in pelle. Lo portò a Josh e lo aprì. Ecco qua, disse. Questa sono io. Indicò una fotografia e un articolo ingialliti, ritagliati con attenzione da una rivista pulp. Il titolo diceva «Veggente del Kansas ha previsto la morte di Kennedy sei mesi prima di Dixon». E sotto a quello una riga più piccola proclamava «Liona Skelton vede ricchezze e nuova prosperità per l'America». La fotografia mostrava una Liona Skelton molto più giovane, circondata da gatti e sfere di cristallo. Quello è della rivista Fate del 1964. Vedete, ho scritto una lettera al presidente Kennedy, avvisandolo di stare lontano da Dallas perché stava facendo un discorso in televisione e io avevo visto un teschio al posto del suo volto. E poi ho usato i tarocchi e la tavola Ouija e ho scoperto che Kennedy aveva un nemico potente a Dallas, Texas. Ho anche visto parte del nome, anche se è venuto fuori come Oswald. Comunque ho scritto questa lettera e ne ho anche fatto una copia. Voltò la pagina, mostrandogli una lettera malmessa e quasi incomprensibile, scritta a mano e datata 19 aprile 1963. «Due uomini dell'FBI sono venuti a casa mia e hanno voluto fare un lungo discorso con me. Io ero abbastanza calma, ma avranno sicuramente fatto saltare il povero Davy fuori dalle sue ciabatte. O parlavano in modo molto misurato, ma potevano farti un buco con lo sguardo. Vedevo che pensavano che ero una pazza lunatica e mi hanno detto di non scrivere altre lettere. E poi se ne sono andati». Voltò un'altra pagina. Il titolo di questo articolo era «Toccata da un angelo alla nascita», giura la John Dixon del Kansas. Quello è del National Tattler, intorno al 1965. Ho detto per caso a quella giornalista che mia mamma mi diceva sempre di aver avuto la visione di un angelo vestito di bianco che mi ha baciato la fronte quando ero una neonata. Comunque l'articolo è uscito proprio dopo che avevo ritrovato un ragazzino dato per scomparso dalla sua famiglia a Kansas City. Aveva dato i numeri ed era scappato di casa e si stava nascondendo in una vecchia casa a due isolati di distanza. Voltò altre pagine, indicando con orgoglio diversi articoli delle riviste Star, Inquirer e Fate. L'ultimo articolo di un piccolo giornale del Kansas era stato stampato nel 1987. «Non me la sono passata molto bene ultimamente», disse. «Problemi di sinusite e artrite. Immagino che mi abbiano annebbiata in un certo modo. Comunque, ecco chi sono». Josh grugnì. Non aveva mai creduto nella percezione extrasensoriale, ma a giudicare da quello a cui aveva assistito di recente tutto era possibile. «Ho notato le sue sfere di cristallo laggiù». «È la mia collezione preferita. Provengono da tutto il mondo, sai?» «Sono molto belle», aggiunse Swan. «Oh, grazie mille, signorina». Sorrise a Swan e poi riportò lo sguardo su Josh. «Sai, non ho visto arrivare questa cosa. Forse sto diventando troppo vecchia per vedere altre cose. Ma avevo una brutta sensazione nelle viscere su quel presidente astronauta. Pensavo che fosse il tipo che permette a troppi cuochi di mescolare il brodo. Devi e io non abbiamo votato per lui. Nessuno dei due, no, signore». Dalla stanza sul retro arrivò di nuovo il rumore della tosse. Liona inclinò la testa, ascoltando con attenzione. Ma la tosse si calmò e la donna si rilassò di nuovo visibilmente. «Non ho molto da offrire come cibo», spiegò. «Ho dei vecchi muffin di Gran Turco duri come ciocchi di legno e una pentola di zuppa di verdure. Posso ancora cucinare sul fuoco, ma mi sono abituata a mangiare del cibo freddo come il letto di una vergine. Ho un pozzo nel cortile sul retro che tira ancora su dell'acqua pulita, per cui siete i benvenuti per tutto quello che vorrete mangiare». «Grazie», disse Josh. «Credo che della zuppa e dei muffin di Gran Turco vadano benissimo, freddi o no. C'è un modo per togliermi di dosso un po' di questa sporcizia?» «Intendi dire che vuoi fare un bagno?» Ci pensò su per un minuto. «Beh, suppongo che si possa fare, alla vecchia maniera. Scaldiamo secchi d'acqua sul fuoco e riempiamo la vasca in quel modo. Signorina, mi aspetto che anche tu debba farti un bagno. Certo, i miei scarichi potrebbero tapparsi con tutta quella terra e non credo che gli idraulici facciano più visite a domicilio. Che avete fatto voi due? Vi siete rotolati per terra?» «Più o meno», disse Swan. Pensava che un bagno, con acqua calda o fredda, fosse una buona idea. Sapeva di puzzare come un porcile. In ogni caso temeva lo stesso di scoprire che aspetto aveva la sua pelle sotto tutta quella sporcizia. Sapeva che non sarebbe stato molto bello. «Allora vi vado a prendere un paio di secchi e potete pompare voi la vostra acqua. Chi vuole andare per primo?» Josh si strinse nelle spalle e indicò la bambina. «Molto bene. Ti aiuterò a pompare, ma devo stare vicino a Devi nel caso avesse un attacco. Tu porterai dentro i secchi e li scalderemo nel camino. Ho una bella vasca da bagno con le zampe, che non ospita un corpo da quando questo dannato casino è iniziato.» Suona a noi e la ringraziò. Eliona Schelton si allontanò per prendere i secchi in cucina. Nella stanza da letto sul retro, Davis Schelton tossì violentemente alcune volte e poi il rumore cessò. Josh era tentato di andare nella stanza per dare un'occhiata all'uomo, ma non lo fece. Quella tosse sembrava brutta. Gli ricordò come aveva tossito Darlene appena prima di morire. Immaginò che doveva trattarsi di avvelenamento da radiazioni. «La malattia ha iniziato a colpire la gente», aveva detto Eliona. L'avvelenamento da radiazioni doveva aver spazzato via quasi l'intera cittadina. Ma a Josh era venuto in mente che forse alcune persone potevano essere in grado di resistere alle radiazioni meglio di altre. Forse alcuni li uccidevano sul colpo, mentre si prendevano gli altri più lentamente. Lui era stanco e debole per la camminata, ma per il resto si sentiva a posto. Anche Suon era piuttosto in forma, tranne che per le sue ustioni, e Eliona Schelton sembrava abbastanza in salute. Nel seminterrato Darlene era stata in forma e vivace il giorno prima, e quello dopo abbattuta e in preda alla febbre. Forse alcuni potevano andare avanti per settimane o mesi senza subirne tutti gli effetti. Lo sperava. Ma in quel momento l'idea di un bagno caldo e di un pasto mangiato da una ciotola con un cucchiaio vero lo mandava in estasi. «Stai bene», chiese a Suon, che fissava il vuoto. «Sto meglio», rispose lei. Ma la sua mente era tornata a sua madre, morta e sepolta, e a quello che aveva detto Pou Pou, o qualsiasi cosa ne avesse preso il controllo. Che voleva dire? Da che cosa il gigante doveva proteggerla? E perché lei? Penso ai germogli verti cresciuti nel terreno seguendo la forma del suo corpo. Nulla del genere le era mai accaduto prima. Non aveva nemmeno dovuto fare qualcosa, nemmeno impastare il terreno tra le mani. Naturalmente era abituata alla sensazione di formicolio, a sentire a volte che una fontana di energia fuoriusciva dalla terra e le fluiva nella spina dorsale. Ma questo era diverso. «Qualcosa è cambiato», pensò. «Sono sempre stata in grado di far crescere i fiori. Farli crescere nella terra umida quando il sole vi splendeva sopra era facile, ma aveva fatto crescere dell'erba al buio, senza acqua, e non aveva nemmeno provato. Qualcosa era cambiato. E la consapevolezza arrivò di colpo. Sono più forte di quanto ero prima». Josh andò alla finestra e guardò la cittadina morta all'esterno, lasciando sua onda sola con i suoi pensieri. Una figura catturò la sua attenzione, un piccolo animale di qualche tipo fermo nel vento. Aveva la testa alzata e guardò Josh. «Un cane», si rese conto. «Un piccolo terrier». Si fissarono a vicenda per qualche secondo e poi il cane sfrecciò via. «Buona fortuna a te», pensò. E si voltò, perché sapeva che l'animale era destinato a morire e lui ne aveva dannatamente abbastanza della morte. Davidossi due volte e chiamò Liona debolmente. Lei portò i secchi dalla cucina per l'acqua del bagno di Swan e poi corse a controllare suo marito.